Un ritorno dalla Sicilia verso il sud Italia, verso Napoli, dove i federiciani hanno avuto il massimo splendore come Federico II, ultimo re di Gerusalemme e ultimo re di Sicilia, ha avuto il suo momento migliore e soprattutto ha avuto quella grande gioia di avere Gerusalemme senza combattere. E oggi bisogna ritornare sulle ombre di Federico II.